Ehi la ciò, ormai io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui in questo episodio di Expeditions Roam. Allora, dobbiamo semplicemente più parlare con Sineros per andarcene. E' rimasto semplicemente questo da fare. Ecco, ho delle espressioni miste. Ah, che figo possiamo spostarci. Ah, questa non c'era, non l'avevo mai lì, chissà, chissà. Domenico. Domenico. Eh, penso che dovremmo improvvisare. Domenico, se questo non inspira confidenza. Sì. Sì, è proprio di fronte a lei. Domenico. C'era. Domenico. 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 Scusate, Domenico. Eh, scusa accettate. Vedete che non capiti mai più. O non. Benvenuti a casa, Wale. Sì. 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 Ehi. La mia madre, quanto ti ha perduto? Tu eri sempre la mia preferita Non ti racconti la mia sorella Mi racconti la guerra Ho sentito che alcuni dei tuoi amici morti là morti da pirati Come ti survived? Probabilità e fortuna Sono fortunato di essere vivo Mi piace la parte politica Ma uccidere non... Ma mi si può fare Come ti ha trattato? Domina, con tutto il rispetto Penso che il legato Ha le sue sue questioni Sto giusto? Come ti ha trattato? Come ti ha trattato? Come ti ha trattato? Inoltre Ma per il fatto che mi vogliono confinare a questa villa Credo che mi camminare per le strade Era troppo di rischio Una volta che sei fuori Ehm... Pensi davvero che mi avrebbero... Che mi avrebbero ucciso? Ehm... Pensi davvero che mi avrebbero ucciso? Ehm... Sono contento di vedere mia madre riva Che sta bene Ehm... Ehm... Va bene Va bene Va bene Va bene Ah, abbiamo un sacco di obiettivi Cos'è? Mid case Ok Calida Dovrebbe essere Again? Allora Power management Prima ho messo un punto di nera Perché era salito di livello Ma mi sa che adesso dobbiamo Far salire altra gente Ehm... Allora questo sia a noi Farai questo Che fa più danni agli scudi Per ricordarcene però Allora... Ehm... Che è invece? Guardian Angel Mettere questo Pazzine rosse Mettere un altro revive Bestia Più focus Ci sta E Julia Le mettiamo... Mmm... Questa non è male Ehm... Questa Questa Allora Vi ho saputo di questo qua Allora Di cash è una bestia tabat Ok Che ci ha invitati a bere Bestia ha invitato Calida in un... Ad un appuntamento Luke warm? Che vuol dire Luke warm? Però curioso perché... Ehm... Warm Ma... Ok è un po' indifferente Per cui hai invitato anche Dejanera Ehm... Andrei prima a questo dai Beh... Abbiamo altra cosa da fare qua... In casa Dove sono io qua? Posso parlare con Sineros? Posso parlare con Claudiana? Cosa vuol dire Sineros? Cosa vuol dire Sineros? Cosa vuol dire Sineros? È uno dei migl pennelli che ho mai gustato Qual è il problema? Ok, bene Prima di lasciare c'è una piccola cosa che dovremmo decidere. Un buon vino devono avere un buon nome. Cosa dovremmo nominare questo? Un buon nome. Minerva's wisdom. Un buon nome. E non senza un tocco di ironia. Molto bene. Con questo si trattato, dovremmo andare a parlare con i buoni mercanti. Va bene. Con la madre non ci parlerei, sennò ho paura che vada avanti con il discorso. Cosa c'è qua? Questo mobiletto. 5.53 Replenish. Ok. Devo fare lo speculator tent. Quello. C'altro dovrei fare, vedere, dire. No, boh, sembra di no. Allora, usciamo a sto punto. E... Qui dovremmo rifare tutta quella roba la. Cioè... Quegli imperitoriali. Ma quando ce ne sarà l'occasione? Perché non so adesso come funziona il discorso. Vi falleremo i luci? Sì. È qualcosa che dovrebbero sapere? Non sposti davanti del greo. Poi, a volte, un uomini stavolò il discorso e ho quasi ucciso. Sto da prendere. Bene. Eeeeee... Va bene. Vediamo le strade per vedere un attimo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il mondo potrebbe essere grande, ma Roma è più piccola di cui pensi, in qualche modo. Le persone parlano, e tu sei molto famoso. Dicami cosa hai bisogno, e ti prenderò tutto. Ho un po' di legno che posso spaventare. Potresti comprare qualche se vuoi fare bandaggi. Questa bottola potrebbe anche provare di essere interessante per te. E' una concozione che funziona contro gli effetti di molti pezzi. La macchina della classe sanitaria può diventare molto dolore. E' sicuro che non devo dire questo. Prendiamo, l'abbiamo. Certo. 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 Il momento in cui la faccio fuori di là. Certo. Certo. Va bene. Grazie, ma non credo che ho una scelta in questo Io vi mando un servizio alla tua città Con le instruzioni per dove mi metterò la prossima Ok C'è un'altra gente con cui devo parlare Andiamo a parlare con i mercanti Perché mi sa che qua è sempre il discorso del vino Non è tu, il vino è diventato più peggio Ho notato anche il vino Quindi mi hai trovato ancora Ma sei un civile adesso Tu sei solo un altro cliente nel mio smithy Il conflitto di successo è interruzione del vino Ho avuto occasione di parlare Potrei provare a te con qualche cucina di alta qualità E come il suo paese è governato Ti preoccupare mi serve di questo Ma li manderò a fare compiere qua Un bel gift per questo humble smith Per il mio servizio alla tua legione Non è vero, non è vero Non è vero Non adesso Cos'è questo affare qua? Per andarsene, ok No, allora là è la cosa del vino Mi sono perso Questo è quello di prima Delle medicine Ok, c'è un tizio qua Quintus Chi siamo? E se è quell'ultimo che ci manca Ok Ok Ho del vino che ha bisogno di un compratore Magari sei interessato a fare un buon affare Would be very interested But the rules state that I have to call the other merchants for a tasting We each must have an equal opportunity Ok Exciting This is brilliant Exquisite The best wine I have tasted this year You know, your father and my father used to trade But I do not believe they ever achieved this level of excellence I do not know, Quintus It does have a harsh finish I would call it nutty Some really good wine, though I could sell this for years Dominate, would you consider a five-year deal? I'm willing to buy a fifth of your stock this year And another fifth next year and so on For each batch I would offer you 1000 denarii I won't risk that Tastes change and demands change with them I'll pay you 3500 denarii Sure, it is less than you'd get from Cordius over five years But I want all of this wine now I agree, it is a good wine I will buy all of your stock right now And I'll pay 4000 denarii More than Quintus is willing to part with Half now and half when I take delivery I'm an honest trader, Legate My father used to deal with your father before either of us was born I will sell your wine to the best clients And pay for all of it up front Cordius, perché dovrei accettare? The deal favors us both I pay less now And you have greater profits in the long term E Vipsan, I'll pay you loan or write? It's good money More than what Quintus pays And you'll get paid as soon as I take delivery In exchange, your wine will be sold The best tavern in Rome It's an offer you pay for I'm sure you've made the right choice And that you know what's good for you I don't likefrei Ah... I love you I'm sure you've got many meinen You're a caregiver Non saranno sorprendenti Ah, posturoso Non puoi fare un negozio con questi uccidini Marki le mie parole Tu saranno raggiungere questo Ti dico una ultima chance di cambiare la tua mente Mi piace tutto il tuo nome Vipsanio E tu hai perduto su una grande business venture Io fareò gli arrangamenti a volte Tu riceverai l'inizio prima Vi ringrazio per la visione Ciao a tutti Buona giornata